Questo titolo appunto legato ad una citazione di Ghete mi sembra molto pertinente oggi perché ci sono tanti temi che entrano in gioco, il rapporto tra padri e figli e soprattutto il tema di conquistarsi quello che noi redditiamo dai padri, quindi non basta avere una cosa ma per possederla te la devi sudare, te la devi conquistare, quindi mette in campo una questione legata al tema dell'esperienza con la realtà, quindi è un tema di stringente attualità mi avviso. Io insegno appunto alla Penny Whirton questa scuola di italiano per immigrati e lavoriamo molto con questi ragazzi e quindi è un tema che ci tocca profondamente e non lo vogliamo rendere ideologico appunto ma lo vogliamo appunto realizzare uno a uno a seconda dell'incontro reale che si può verificare tra insegnante e appunto ragazzo della seconda generazione. Lei è molto legato alla figura di Don Lorenzo Milani e proprio l'altro giorno abbiamo avuto questa, non è esagerato dire storica, visita di Papa Francesco a Barbiana in cui abbiamo avuto la forse riabilitazione definitiva della figura di Don Milani. Come ha vissuto lei questo avvenimento? Beh, l'ho vissuto come una legittimazione e un risarcimento allo stesso tempo della figura del priore di Barbiana, una legittimazione perché finalmente si pone fine ad una serie di incomprensioni e quindi Don Lorenzo Milani finalmente insomma entra a pieno titolo insomma nella storia della Chiesa anche italiana. E poi certo anche un risarcimento perché c'erano state tante incomprensioni proprio dai gesuiti, da civiltà cattolica e quindi molto bello che un Papa gesuita ci introduca insomma a questa figura così importante di italiano, sacerdote, scrittore anche difficilmente incasellabile.